Vedete, effettivamente, perché di solito in tutte le cose una parte di verità c'è, questo mantenimento dell'attuale legge elettorale qualche effetto sembra già averlo creato. Perché a parte l'onorevole Frattini e alcuni colleghi del PDL che ieri hanno avuto un atto, a mio parere, di grande dignità e responsabilità, questo mantenimento che si paventa dell'attuale sistema credo che abbia avuto già qualche effetto. D'altronde, forse non è un caso se l'onorevole Bondi sul Corriere della Sera di questa mattina si dichiara disgustato. Bondi non è un signore qualsiasi, Bondi è coordinatore nazionale del PDL e dice disgustato, sono le sue affermazioni. Le cito testualmente, persone che per lunghe settimane sono rimasti in silenzio per non esporsi o addirittura nella penombra del transatlantico tramavano contro Berlusconi, ora sono lì a spellarsi le mani e a gridare evviva. Onorevole Bondi, non si dispiace.